In questa lezione parleremo della struttura interna e dell'atmosfera di Marte. La struttura interna di Marte, a differenza di quella della Terra, non è ancora del tutto chiara. Le informazioni che finora abbiamo derivano dallo studio dei meteoriti di origine marziana giunti sulla Terra e dall'analisi dei dati ottenuti dalle sonde in orbita attorno al pianeta. Il moto delle sonde infatti è sensibile all'ineguale distribuzione delle masse interne del pianeta, che modificano l'intensità del campo gravitazionale. Un altro modo per ottenere informazioni sull'interno del pianeta è la sismologia, branca della geofisica che studia i fenomeni sismici, in particolare i terremoti e la propagazione delle onde sismiche da essi generate. In questa simulazione vediamo come potrebbero propagarsi le onde sismiche attraverso i vari strati interni di Marte. Il sismometro 6 dell'Ender InSight della NASA, atterrato nel 2018, sfrutta proprio la propagazione delle onde sismiche per sondare l'interno del pianeta. Ad oggi ha rilevato più di 500 terremoti marziani. Le osservazioni effettuate tramite InSight suggeriscono che la struttura interna di Marte sia simile a quella terrestre, con un nucleo metallico, un mantello e una crosta superficiale relativamente sottile. Partiamo dal nucleo che, analogamente a quello terrestre, si stima essere costituito prevalentemente da nickel e ferro, ovvero i materiali più pesanti migrati verso il centro all'inizio della storia evolutiva marziana. E' stato rilevato anche zolfo. Il diametro stimato del nucleo è attorno a 2400 chilometri. Il mantello attorno al nucleo ha ragionevolmente una composizione chimica simile a quella del mantello terrestre. Questo è quello che emerge dall'analisi della composizione chimica e mineralogica dei meteoriti marziani giunti sul nostro pianeta. L'ipotesi più probabile è che sia costituito da peridotiti, rocce ricche di olivina, un minerale a base di magnesio, ferro e silicati. Come nel caso della Terra, il mantello funziona un po' come scambiatore di calore tra nucleo ed esterno. Sono stati proposti tre modelli dell'interno di Marte, cioè l'insieme di nucleo e mantello. Il modello 1 è basato su un nucleo ricco di zolfo. Questo scenario suggerisce che, una volta formato, Marte avrebbe avuto un nucleo completamente liquido, i cui moti convettivi avrebbero generato un campo magnetico in grado di avvolgere tutto il pianeta. La convezione interessò anche il mantello, ma la crosta marziana non si ruppe in placche, per cui non si innescò la tettonica zolle. Mentre il pianeta si raffreddava, i moti convettivi nel nucleo rallentarono sempre di più fino a fermarsi, portando alla scomparsa del campo magnetico. I moti convettivi nel mantello potrebbero essere andati avanti ancora per un po', ma è anche possibile che nel corso del tempo siano cessati del tutto. Il modello 2, invece, è basato su un nucleo povero di zolfo. La struttura interna di Marte sarebbe stata simile a quella proposta nel primo modello, una crosta formata da un'unica placca che avvolge tutto il pianeta e un mantello interessato da moti convettivi. Invece di essere completamente liquido, in questo scenario il nucleo aveva una parte esterna liquida, i cui moti convettivi sarebbero stati sufficienti a generare un campo magnetico globale, e una parte interna solida, a causa della cristallizzazione del metallo inizialmente fuso. La differenza tra questo modello e il modello 1 è basata sull'ipotesi che, dopo il raffreddamento del pianeta, la massa del nucleo aumentò rapidamente, lasciando solo uno strato esterno liquido troppo sottile per permettere ai moti convettivi di generare un campo magnetico. Infine il modello 3, indipendentemente dalla quantità di zolfo nel nucleo, è basato su un meccanismo completamente differente, la tettonica placca, che permette una efficiente dissipazione del calore interno del pianeta. In questo scenario la superficie marziana, come quella della Terra, era suddivisa in zolle litosferiche mobili. Sotto la crosta il mantello era soggetto a moti convettivi che contribuivano al movimento delle placche. Il nucleo era composto da una parte interna solida e una parte esterna liquida. A seguito del raffreddamento dell'interno del pianeta, o a causa di un impatto catastrofico, la convezione nel mantello cessò. Ciò portò alla cessazione della tettonica zolle e dei moti convettivi anche nel nucleo esterno, e alla scomparsa del campo magnetico globale. Proseguendo il nostro viaggio verso l'esterno, al di sopra del mantello troviamo la crosta, che ha uno spessore fra 30 chilometri e 100 chilometri, a seconda dell'emisfero. Al suo interno è presente una quantità di ferro pari al doppio di quella della crosta terrestre. Osservazioni effettuate dalle sonde sia in orbita che sulla superficie del pianeta hanno rilevato rocce ricche di felespati, minerali presenti in rocce magmatiche, che forse una volta erano assenti su Marte. Queste analisi hanno anche rivelato minerali simili a quelli esistenti nello strato superiore della crosta terrestre, che potrebbero indicare una precoce formazione di una crosta continentale su Marte. Infine parliamo dell'atmosfera, che è composta principalmente da anidride carbonica, circa il 95%, azoto molecolare per il 2,6% e argon per l'1,9%. Sono presenti anche tracce di ossigeno, vapore acqueo, idrogeno, monossido di carbonio e alcuni gas nobili. Rispetto a quella terrestre, l'atmosfera marziana è molto più sottile e rarefatta ed esercita una pressione sulla superficie pari a meno dell'1% rispetto al valore terrestre. In passato l'atmosfera di Marte era molto più densa, umida e calda di quella attuale. Ma perché Marte non è riuscito a trattenere la sua atmosfera? Un'ipotesi suffragata anche dalle osservazioni della sonda Maven della NASA è l'erosione da vento solare. Gli urti con le particelle di vento solare avrebbero fornito ai gas atmosferici sufficiente energia cinetica per raggiungere la velocità di fuga, e anche la piccola massa del pianeta e la sua bassa attrazione gravitazionale avrebbero favorito questo processo. Una scoperta interessante risale al 2003, quando la sonda Mars Express rilevò metano nell'atmosfera del pianeta. Questa scoperta venne confermata nel 2013 dal rover Curiosity e più recentemente anche dalla sonda europea ExoMars Trace Gas Orbiter. Cosa può aver prodotto il metano su Marte? Il metano è molto instabile in un'atmosfera fortemente ossidante come quella marziana, il che significa che il gas rilevato da Curiosity e Mars Express deve essere stato prodotto o rilasciato molto recentemente. Un'ipotesi è che il metano sia stato prodotto milioni o addirittura miliardi di anni fa. Potrebbe essere rimasto intrappolato nel sottosuolo per tutto questo tempo, fino a quando è finalmente riuscito ad arrivare in superficie, dove è stato rilevato dalle sonde. Un'altra possibilità è che il metano osservato sia d'origine biologica, ma ad oggi non ci sono indizi certi della possibile presenza di forme di vita su Marte, né passate né attuali. Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta della struttura marziana, parlando di alcuni fenomeni che si verificano a causa della forte escursione termica giornaliera nello strato più basso dell'atmosfera, dell'ordine dei 100 gradi centigradi. Per esempio i Dust Devils, letteralmente diavoli di polvere, che assomigliano a una tromba d'aria, come questo ripreso dal rover Curiosity nei pressi di Mount Sharp, che si è stimato essere alto a 50 metri e con un diametro di 5 metri. Oppure le tempeste di polvere, che possono avere dimensioni locali, regionali o addirittura globali. Qui vediamo un primo piano di una tempesta di polvere ripresa dal Mars Color Imager Instrument della sonda Mars Reconnaissance Orbiter il 7 novembre 2007 mentre sorvolava Utopia e Planizia. E' importante monitorare queste tempeste, perché possono influenzare l'operatività di rover e lander su Marte. Questo Dust Devil, invece, è noto come Serpent Dust Devil e venne sempre ripreso da Mars Reconnaissance Orbiter mentre sorvolava la regione Amazonis-Planizia nella parte settentrionale di Marte. In questa lezione abbiamo parlato della struttura interna e dell'atmosfera marziana. Quali nuove scoperte ci riserveranno le sonne in futuro? Grazie a tutti! No��na Nokten Grazie a tutti.